questo è il più originale è lo spazzacaminio rattuso si chiama lo spazzacaminio prima che fai entrare poi lo faccio vedere ci dà mangiare e bere a lo spazzacaminio dopo aver mangiato mangiato e ben bevuto non vedi il fudor dello spazzacaminio non vedi tu signora soppecchio che mi siede fa del mio dovere a lo spazzacaminio che mi siede non vedi non vedi il fudor che mi siede che mi siede che mi siede ma mi ovele a lo spazzacani che si chiama che giovanotto che mi ovele che mi siede che mi siede Grazie per la visione!